sfogliamo alcune pagine del giornale diocesano insieme disponibile nelle parrocchie della diocesi e nelle edicole partner ripartiamo da maria e questo il cuore del primo piano di settembre mese in cui la chiesa celebra due importanti festività mariane nevangiale il volto di maria è sempre associato a quella di gesù tra il figlio e la madre c'è un legame indissolubile chi cerca gesù trova anche maria dunque il primo piano sulla vergine maria ma anche con esperienze che richiamano a maria quelle compiute all'urde dai volontari della puax in occasione per esempio dei pellegrinaggi diocesani alla grotta di massabielle ma anche l'esperienza di un rosario nato online durante la pandemia a partire da poggio marino poi si è steso a tutta italia in scuola parliamo dell'avvio del nuovo anno scolastico e dell'esperienza degli insegnanti di religione cattolica poi abbiamo la scuola anche settembre tempo di ripartenza per la scuola con la dirigente teresa staiano guardiamo un po proviamo a guardare al futuro con gli insegnanti di religione proviamo a capire come vivono loro questo periodo di ripartenza e questo periodo di pandemia in attualità riflettori puntati sulla settimana sociale dei cattolici italiani in programma taranto dal 21 al 24 ottobre omaggio allo scrittore domenico rea con un'intervista alla figlia lucia in occasione dell'apertura l'8 settembre delle celebrazioni per il centenario della sua nascita in attualità abbiamo due riferimenti uno all'ambiente ambiente letto in maniera integrale dunque ambiente come natura ma anche ambiente come tutela della salute delle persone ragioniamo sulle criticità del nostro territorio con lo sguardo volto a taranto per dove si terrà ad ottobre la settimana sociale dei cattolici italiani ma in attualità c'è anche una bella intervista a lucia rea figlia di domenico rea che dice mio padre amava questa terra e ci racconta anche come lo scrittore che avrebbe compiuto 100 anni lo scorso 8 settembre avrebbe probabilmente convissuto in quest'epoca particolare con i social o con le notizie che arrivano dal fronte di guerra per esempio afgano dunque un'analisi non solo sul domenico rea scrittore padre ma anche su domenico rea uomo contemporaneo in chiesa abbiamo intervistato il segretario di stato pietro parolin in visita a pagani per la solennità di sant'alfonso maria deliguori infine tante notizie della vita diocesana e delle nostre comunità parrocchiali poi la parte di chiesa molto ampia si apre con l'intervista al cardinale parolin che parla di sant'alfonso un santo che fa innamorare ma anche un santo che può essere da guida ai giovani e da guida in questo periodo sinodale che si è aperto per la chiesa universale in particolare per la chiesa italiana e poi le pagine dedicate alle parrocchie infine le rubriche ed una riflessione sull'importanza della messa di giuseppe pecorelli insomma insieme è questo e tanto altro vi aspettiamo in tutte le parrocchie e nelle edicole partner per ripartire per un nuovo anno insieme grazie